Lavoro al Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia e in particolare nel gruppo di ricerca di igiene ambientale e occupazionale Risk Assessment in Human Health. La nostra attività di ricerca riguarda lo studio dell'esposizione ad agenti di rischio fisico, biologico o chimico presenti negli ambienti di vita o di lavoro. L'obiettivo è quello di capire come ridurre o limitare l'esposizione a questi agenti di rischio per prevenire effetti sulla salute. Durante l'emergenza Covid-19 il nostro gruppo è stato coinvolto in diversi tavoli tecnici e gruppi di lavoro. Tra le attività svolte abbiamo prodotto diverse indicazioni operative utili a limitare il contagio dei lavoratori negli ambienti di lavoro ma anche documenti di stampo più divulgativo inerenti al corretto utilizzo di mascherine e dispositivi di protezione individuale.